Il vicepresidente Nicola Cirrincione ti abbiamo tolto alla festa, felicissimo, di più? Molto felice, sì, avevo detto prima, ribatto sempre sulla stessa cosa. Ripartiamo da settembre che non avevamo palloni, maglie e cose del genere. Siamo qui arrivati a una promozione meritatissima e poi vedere lo spettacolo ai tifosi è da altra categoria. Avete annullato quella ferita aperta dell'esclusione dalla Lega Pro, secondo te ne il tifo? L'avete annullata con questa vittoria del campionato di eccellenza? Noi siamo ripartiti anche per questo perché quando ci hanno proposto l'eccellenza abbiamo chiuso subito gli occhi perché siamo sempre, come vi dico sempre, innamorati della città di Campobassa e di questa gente che meritano altre categorie. Quindi siamo qui per questo ed è giusto farli godere come goderemo noi a festeggiare insieme a loro. Adesso festeggerete, io so che già state lavorando alla Serie D da qualche settimana. Noi purtroppo siamo americani, non voglio dire niente perché sono nato in Italia, però sto in America da 30 anni, noi già pensiamo a 10 anni da ora. Quindi vi ripeto, Campobasso merita altre categorie, quindi siamo già subito al lavoro. Godiamo tutta questa bella soddisfazione da domani già. Noi siamo concentrati subito sulla prossima squadra. Cambiamenti, cambiamenti, conferme, lo direte nelle prossime ore? Lo diremo sì nelle prossime ore, però naturalmente guarda da quello che è successo non c'è da rimproverere nulla, quindi stiamo già programmando ed essere protagonisti subito dell'anno prossimo in Serie D.